signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefem 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno ed eccoci qua pronti con la top 10 numero 10 per emma con lazza amore cane numero 9 per bob sinclair e mattia bazar ti sento paola e chiara ritroviamo alla posizione numero 8 con solo mai numero 7 per calcutta con giro con te numero 6 per i club doggo soli a milano il brano con elodie numero 5 articolo 31 coma cose una cosa bene posizione numero 4 per annalisa con il brano sinceramente sul podio numero 3 per viaggio antonacci con a cena con gli dei la vincitrice del festival di sanremo angelina mango numero 2 con la noia e arriviamo alla prima posizione con gaia sempre lei il brano tokyo solo tu mi fai come il mare se mi tocchi La mia pelle trilla